un saluto da philips89 siamo quasi chimera squad e andiamo a fare questa missione vediamo come ce la cambiamo merce di contrabbando pericolosa confermata sottraetela ai nemici difficile da colpire i nemici infliggono meno uno di uno danni in meno durante l'irruzione tutte le unità che entrano da qui ottengono 3 di mobilità tutte le unità che passano da qui ottengono ok allora sperimentiamo bene lei si non ti deve bloccare lui restate dietro di me andiamo proviamo con la torretta l'ho distrutta proviamo con lui proviamo con lui proviamo con lui l'onda energetica la sperma è è è è è è è è che attacca è troppo ottino il comandante libera gli ufficiali e gli uffici dei dirigenti impedisce i nemici di fuggire fate spazio eccoci qua a lui fallo fuori scappa granata al plasma bene ora ecco hai chiuso no proprio sfortunati no no che attacca ah c'è il mech che è il purificatore vediamo se lo fai fuori il nemico ci ha salutato eeeh scudi attivi mi blindo non è proprio necessario questo lascerà un segno sono qui attaccami si ci ha già attaccato meglio che mi muova posso attaccare non molto efficace ok almeno non hai mancato il colpo questo sono osse dure davvero davvero vai qui il nemico il nemico non si muove certo starai benissimo siamo in buone mani sono sono quattro non l'ha colpito bene bersaglio a terra non vedo movimenti fai una bella guardia tengo gli occhi aperti conto su di te rifletti sulle tue scelte munizioni quasi finite vediamo questo spa nemico fuori dai giochi voi altri arremente L'ultima unità che passa dall'ingresso colpirà automaticamente. Bene. Quindi Terminal. Shelter. Cherub. Action. È ora di entrare! E quanti nemici ci stanno? Lusso. Solo tre. L'ultima unità. Allora, l'hai fatta fuori. Sì, fai fuori la torretta. Sì, si è bloccato. Come faccio? Allora. Allora. Sì, sì. Allora. 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 Vai su di lui. Vai su di lui. Ebbene. Dobbiamo di scappare. In avvicinamento. Uno in meno di cui preoccuparsi. Verso la posizione indicata. Sangue sulla giacca. Di nuovo? Sì, doveva colpire. Annullamento bersaglio. Mi ha quasi preso. Fanno fuori. Non mi piace questa squadra. O sono... No. Non riesco ad usare da bene. Sì, scappa pure. Non ti posso recuperare fin lì. Ok, diamo... Torno a qualcuno. Sì, a lui. A chi l'hai dato? Ma sei scemo. Oh no, munizioni finite. Diamine, non ho munizioni. Guarda. Ho ricaricato. L'armatura è troppo spessa. Prova le giunture. Sono più deboli. Ok, non lo paga il robot. Non mi è piaciuto. 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 Ciao, ciao. Bersaglio a terra. Quindi la prima tu. Apriti. Apriti sesamo. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Nooo. Vabbè. Ma quanta salute hanno. Nooo. 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 cosa fare? Non so che inventarmi. È troppo difficile. Forse devo fallire. Anche perché questo gioco... Allora ho fatto 100. Molto meno superficiale di me. Chi è il prossimo ad attaccare? Sicario, che deve fucire, e il mech. Proviamo a fare fuori il mech. Sì, fuggi, no, non ci posso fare niente. Ciao, ciao. Ora spara il miss. Sto... Sì, sto bene. Sì, serviranno dei punti. Sì. 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 Vediamo chi attaccare. Robottino Visto? Notevole Mi ha quasi preso Forza renditi Shell Vai qui Sono in movimento Attacchiamo lui Toglietevi di mezzo Versaglio ucciso Merda Chi puoi attaccare Quanti colpi hai Lui No Facciamo cura Rimettiamo le budella Al loro posto Stai dicendo Che non so difendermi? Cerchiamo di fare fuori lui Uno Una spira infinita La vuoi smettere? Non lasciare che si infetti Munizioni quasi finite Nemico ucciso Ho quasi finito Ho quasi finito le munizioni Deviato dall'armatura Devi mirare alle parti scoperte Ho ricaricato Ha ricaricato ragazzi Il caricatore è quasi vuoto Le munizioni stanno per finire Gremlin in arrivo Serve un aiutino? Tienici al sicuro Uccidilo Ti prego Ti prego Espando lo scudo Chiudo una porta Vado laggiù Ho fermato il nemico Come hai fatto? La sacra spira è guidata da Bellus Mar Un ex comandante della Advent Che non è mai stato catturato dopo la guerra Per quanto ne sappiamo Si ritiene ancora in guerra Pensiamo che abbia avuto un ruolo nel massacro di Bugtown Considerate Bellus Mar molto motivato Ed estremamente pericoloso Direttrice Io sono uno dei cloni di Bellus Mar Lo so La cosa ti preoccupa? No Ma Lei è preoccupata? E la squadra? Serub Mar ha decine di migliaia di cloni L'unica cosa che avete in comune è il DNA Ok Beh Lo so ma Grazie Magnifico Chi li ha presi? Chi ha preso cosa? I 5 kg di cibo dal frigo Una quantità alquanto specifica L'ho pesato dopo averlo preso E cosa avresti preso esattamente? Me lo chiedi come se ti aspettassi di sentirmi rispondere un gatto Sai che ti dico? Non lo so e non lo voglio sapere Sei inutile Ma almeno ho escluso un sospettato Questo qua ci potrebbe dare un'azione gratis Spara un bersaglio con questo potenzialamento applicato Il puntamento olografico Il bonus Ah Emano i fulmini Quindi perché i rub sarebbero 3 attacchi Allora vediamo un po' Vediamo un po' di mira a questo Bestione E... Cacciamo dalla squadra lui E mettiamo Kerub Abbiamo bisogno di informazioni Sì Hai combattuto durante l'invasione, vero? In una città? Parigi Esatto È notevole che tu sia sopravvissuta Pensi che questo sia un complimento? No, è la realtà Il tasso di mortalità a Parigi era estremamente alto Me lo ricordo Meglio se te ne vai Sì, d'accordo Mi manco a livello Kerub per diventare massimo Allora il livello Godmother al massimo Lui è principiante Recluta Lei È un buon livello Vediamo le missioni Sono tre Sì Questa non la possiamo fare Faccio da soldi A meno due E l'erium Oppure ne abbiamo bisogno Nemmeno due ne ti rivolti Presta di questo Molta arma Abbiamo l'arma Da dare Anche A meno due Grazie a tutti Abbiamo dato l'arma a Cherub Stiamo addestrando Godmother Quanti giorni mancano qui? 7 Quindi Godmother potrebbe esserci per la missione principale Io direi di utilizzare questo qua Per ora E faremo questa missione La prossima volta Questa la lasciamo Anche perché qui l'anarchia è come vedete Lo smistamento Lo smistamento è la zona Qua le rivolte sono Vanno a più due Ma ce ne sono altre tre tacchette Bene ragazzoli Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like A commentare Per darmi consigli Su questi altri giochi Che sto portando sul canale A condividere Per aiutarmi a far crescere E conoscere questo canale Sempre E ad iscrivervi se non l'avete già fatto Un saluto da Philips89 Alla prossima Ciao